Non aveva resistito al richiamo delle vacanze, nonostante l'obbligo di dimora, era partito per una bella e lussuosa crociera nel Mediterraneo. Ma Giacomo Di Pierno, 39 anni, considerato lo specialista della logistica del traffico di droga tra Italia e Spagna, è stato tradito da un selfie ed è stato rintracciato e arrestato al termine delle sue vacanze. Di Pierno era stato arrestato a giugno dello scorso anno insieme a 16 complici con l'accusa di traffico internazionale di droga. Secondo la procura aveva organizzato lo spostamento di un chilo e due di hashish marijuana facendoli nascondere in doppi fondi ricavati su articolati. Il giudice però lo aveva sottoposto all'obbligo di dimora, non poteva allontanarsi da Varcaturo, Interlanda Nord di Napoli. Ma il 39enne non ha resistito al richiamo delle vacanze e così insieme alla sua compagna si è allontanato di nascosto ed è partito per una crociera nel Mediterraneo lunga sette giorni. Una settimana di relax e divertimenti a bordo con escursioni a terra, Napoli, Genova, Marsiglia, Baleari, Malta, Messina, immancabilmente immortalati a favore degli amici sui social network e la tentazione irresistibile di sfoggiare la bella evasione dalla quotidianità gli sono costati il carcere. I carabinieri infatti hanno documentato il viaggio e il jeep di Napoli ha inevitabilmente aggravato la misura cautelare. L'ultima tappa della crociera di Di Pierno è appoggio reale.